Un saluto e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ci attendono condizioni di bel tempo sulle regioni del centro nord grazie ad una temporanea ripresa dell'alta pressione. Vi segnalo invece la presenza di un'area di bassa pressione attiva sul Mediterraneo centrale che determinerà sulle regioni meridionali condizioni di spiccata instabilità. Vediamo ora nel dettaglio la nuvolosità che nella giornata di giovedì interesserà la nostra penisola. Insisterà sui settori meridionali determinando precipitazioni durante la giornata che nel corso del pomeriggio daranno luogo a fenomeni anche a carattere temporalesco specie a ridosso della dorsale appenninica. Non si escludono precipitazioni anche a ridosso del comparto alpino confinale centrale. Vediamo ora in definitiva la condizione meteorologica attesa per la giornata di giovedì sulla nostra penisola caratterizzata da condizioni di tempo stabile soleggiato al centro nord con locali precipitazioni sui rilievi alpini confinali centrali. Tempo invece instabile al sud per la presenza di un'area di bassa pressione. Vi segnalo temperature massime in rialzo al nord con valori più umiti e piacevoli attorno ai 20-21 gradi. Clima invece più freddo sulle regioni del centro sud. Maggiori dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.